Vittorio Feltri legge l'irriverente visto opposto a quello dominante nella stampa italiana che aveva sposato con soddisfazione la tesi colvevolista calpestando così il principio sacrosanto della presunzione di innocenza Io non ero assolutamente innocentista tuttavia i miei articoli mettendo in risalto l'improbabilità delle accuse rivolte al presentatore sollevavano dubbi poiché questo è il dovere morale del giornalista su sua espressa richiesta incontrai nella capitale Pannella che mi manifestò il desiderio quasi disperato di aiutare Tortora in effetti poco dopo lo candidò nelle liste del partito radicale ed Enzo fu eletto europarlamentare però la squalida faccenda non era chiusa la strada fu lunga e tortuosa Marco ogni tanto mi chiamava per avere aggiornamenti sul procedimento dal momento che non si fidava molto dei quotidiani un giorno mi disse che gli avrebbe fatto davvero piacere essere intervistato dal sottoscritto e lo accontentai con un lungo e omnicomprensivo colloquio pubblicato sul Corriere il nostro rapporto si consolidò in breve tempo forse perché eravamo un po' simili ci appassionavano le medesime cause ricordo che una volta mi invitò a prendere parte ad un comizio a Milano in piazza Duomo e non ebbe il coraggio di rifiutare nonostante io non sia un tipo da discorso solenne nella Gorà la piazza era gremita di gente giunta da ogni dove Marco si dilungò nel suo intervento io invece fui conciso e suscitai qualche risata nel pubblico diciamo che quando sono in difficoltà comunque riesco a cavarmela Tortora si dimise rinunciò alla carica di deputato europeo per sottoporsi al processo di secondo grado senza farsi scudo dell'immunità e nel processo d'appello finalmente fu scagionato Marco e Dio ne gioimmo profondamente sebbene ci restasse in bocca un retrogusto amaro la cosa più divertente che feci con Pannella fu la sua campagna elettorale il Corriere mi incaricò di seguire i grandi leader italiani durante i loro comizi elettorali solamente Craxi non gradendola si oppose strenuamente alla mia presenza feci la cronaca dell'apostolato dell'altissimo di Demita e altri grandi di allora incluso Pannella il quale si trovava a Roma e da Roma si sarebbe recato in Sicilia a Palermo dunque mi invitò ad andare con lui su un aereo privato che gli era stato concesso praticamente da Antonio Locatelli il che non mi dispiaceva affatto dato che avrei evitato le lungaggini che procedono l'imbarco all'orario stabilito mi presentai a Ciampino ai voli civili nell'area da cui decollano gli aerei personali dei miliardari italiani e attesi l'apparizione del politico nel mentre alcuni operai conducevano all'esterno di uno dei capannoni un aeroplano zoppo restai impressionato dal fatto che un velivolo tanto antiquato fosse ancora in circolazione lo osservavo con distacco pensando non sarà mai questo il mezzo così sfigato quello su cui viaggeremo noi invece mi sbagliavo oltre a me era presente il collega Massimo Franco ora editorialista del Corriere all'epoca egli lavorava al giorno ci fecero salire su questo trabicolo anzi cattorcio ci guardammo e ci venne anche da ridere dal momento che la situazione appareva surreale eppure eravamo molto preoccupati un tetro presentimento si impossessò di noi allorché sopraggiunse un pittoresco pilota il quale avrà avuto 50 o 60 anni indossava un casco di pelle marrone da aviatore con tanto di occhialini prendemmo posto ed il velivolo iniziò a rullare ci sembrò di percorrere chilometri di pista tuttavia l'apparecchio non si alzava mai si rifiutava di prendere quota poi finalmente con grande sforzo esso si staccò dal suono stavamo volando sulla rotta per Palermo e ben presto sotto di noi vedemmo il mare io ero come paralizzato dal terrore una cosa casereccia insomma e pensavo chi diavolo me lo ha fatto fare se crepo qui con pannella lascio una moglie e quattro figli intanto il leader dei radicali russava con un sincronismo stupefacente era letteralmente piombato nel mondo dei sogni non appena si era accomodato sul sedile Massimo ed io invece eravamo sveglissimi e nelle nostre vene scorreva adrenalina a fiotti come se non bastasse ad un certo punto ci imbattemmo in un temporale furibondo la cabina tremava veniva sballottata da una parte e dall'altra avevamo la sensazione di precipitare poi di riprendere momentaneamente quota vabbè qui andiamo giù e buonanotte mi dissi quasi mi ero rassegnato e gli episodi salienti della mia vita mi scollevano davanti come scene di un film in cui ero il protagonista raggiunsi l'apice dello sconforto allorché d'improvviso sbucammo dalle nuvele e ritrovammo il sereno emisi un sospiro e mi avvicinai al pilota per cercare di parlargli e ricevere qualche informazione sul viaggio oltre che qualche rassicurazione eppure l'uomo non rispondeva stava muto era come ipnotizzato nello sconcertante silenzio d'un tratto si voltò verso di me e fece segno col dito verso il basso allora dalla sua bocca uscì solo una parola ustica stavamo sorvolando in quel istante l'isola dove il 27 giugno 1980 era avvenuto il disastro aereo in cui erano morti 81 persone compie le gesti apototropiaci tutt'altro che eleganti fu per me automatico incredibile ma vero finalmente riuscimmo ad atterrare a Palermo allora appoggiai i piedi per terra baciai il suolo come il papa con un sincronismo ancora una volta perfetto Marco si svegliò carico come un vulcano pronto a deruttare all'aeroporto c'era una BMW che ci attendeva per condurci in città salimmo su questa macchina mi ero quasi del tutto rilassato ed ero come pervaso da una strana euforia che ritengo possa restare simile a quelle che avverte un sopravvissuto all'apocalisse quando l'autista apprese a guidare ad una velocità folle in quanto la gente in piazza attendeva a pannella per il comizio ebbi più paura sull'automobile che in cielo il veicolo sfiorava il guardrail ed io chiudevo gli occhi in tutto questo pannella era serafico se ne fregava sembrava non accorgersi dei pericoli che lo circondavano ancora miracolosamente arrivamo alla meta sani e salvi va da sé che il giorno seguente rientrai a Milano con un volo all'Italia ecco uno stralcio del mio articolo pubblicato martedì 22 giugno 1987 sul Corriere della Sera in cui raccontai con questa esperienza punta Raisi per chi arriva dal cielo all'allegrezza di un cipo funerario ma nella circostanza mi sembrava assai più entusiasmante della cicciolina segnala il traguardo abbiamo fatto un volo pazzesco con un aereo cui mancano soltanto i pedali per essere un regolamentare giocattolo da Luna Park mi aveva sempre fatto sorridere il Papa che baciava la terra al termine dei viaggi ora capisco quanto avesse ragione non staccherei più le labbra dalla pista una sensazione dolcissima il piacere di rinascere sono le 18.30 sto con Marco Pannello da parecchie ore e se ho i nervi logori credo di essere giustificato non avete idea di qualche cosa sia capace di fare questo uomo che suscita odi ed amori esagerati taglia presso una giornata equivale ad un lento suicidio all'inizio quando ero fresco avevo sostenuto con lui vivaci e discussioni poi sarà stata la trasvolata sul mare tra momenti drammatici e scene alla Ridolini ho ceduto gli ho persino promesso per sfinimento che voterò per il suo circo e pensare che mi ero immaginato un servizio tranquillo la sveglia è alle 7.20 sono andato a letto alle 4 dice il capo radicale tre ore di sonno in campagna elettorale debbono bastare sfoglie i giornali e san rabbia subito con scalfari da 4 anni non mi metteva in prima pagina stavolta mi dedica addirittura il fondo per darmi del fascista sa perché? per la cicciolina ci voleva la porno star perché si accorgesse che esistiamo tutti uguali i quotidiani per loro contano più le tette dei cervelli il manifesto gli ha pubblicato un'intervista se la legge è di un fiato con aria di uno che ha caccia di errori non ne trova ed è contento sono stati corretti bravi Pannella avruzzese di Teramo non è sposato vive da singoli in una piccola casa di buon gusto che il disordine non rovina esce senza neanche fingere di sistemare qualcosa i posaceneri sono colmi mozziconi cortissimi di Golluas alle 9.15 siamo alla sede romana del Corriere e atteso per il dibattito graticola con i giornalisti non se ne fa un problema e lo affronta con la consueta spavalderia sparando slogan e sentenze indossa un completo bu metallizzato camicia bianca e cravata celeste lo stesso abbigliamento col quale si presenterà a tribuna politica è disinvolto gesti ampi da dominatore del palco scenico sulle scale incontra un paio di persone che lo riconoscono e salutano un po' sorprese di trovarselo lì risponde con cenni del capo e la chioma canuta ondeggia solenne si va di fretta e ancora arrivano gli altri un inviato del giorno e un giovanotto della rosa che tiene la cassa è assente soltanto il leader sono le 16 mi hanno promesso che viaggeremo su un jet privato genere alta finanza e sono sereno come alinate quando ci si affida dall'Italia che ho prontamente rivalutato sul piazzale intanto hanno trascinato il modesto apparecchio descritto dalle ali che fremono al soffio del pollentino fa tenerezza sembra quello veramente di Antonio Locatelli un trabiccolo penso che useranno sulla rotta di fregene per addestrare i piloti in erba un corno è il nostro colto da malore manifesto in proposito di rinunciare all'incarico al corriere capiranno ma non capisce pannella che è giunto trafelato senza indugi si intuffa a bordo con non curanza come si trattasse di prendere la circolare destra e urla annamoga è tardi fantuzianamente rassegnato salgo l'abitacolo è super giù quello di un aritmo e pende a sinistra la parte del super radicale un signore di mezza età che tutti chiamano comandante Tatulli siede la cloche e avvia i due motori che rivelano una preoccupante svogliatezza tossicchiando sbuffano cigolano i miracoli avvengono sul sedio il cosino decolla soffrendo noi più di esso prende quota sul volto di Tatulli leggo una moderata soddisfazione sempre dal mio resoconto il panorama è disgustoso acqua plumbea orizzonte viola cuaresimale nuvole blu di tonalità identica al monopetto di Marco vesce si appassiona alla perigliosa navigazione inviato del giorno ogni tre secondi si asciuga le mani io procedo a un'intima commemorazione di me medesimo e considero con disappunto che in caso di probabile sciagura domani i giornali riserveranno un titolone a pannella e a noi mezza riga di sommario tra le vittime un paio di cronisti e due collaboratori del battagliero esponente radicale nemmeno la consolazione di un'evidenza postuma imperversano raffiche di vento un motore si inghiozza il comandante armeggia nervosamente sul quadrante gira una chiavetta giuro che cadiamo mi volto pannella dorme la bocca semi aperta una calma così in certi momenti è indisponente superiamo il temporale infine la conclusione la mezzanotte è trascorsa da molto non ne posso più quelli del suo seguito distrutti non si è mangiato nulla non un caffè non una bibita ma chi glielo fa fare onorevole mi risponde aggrottando la fronte l'indolenza degli altri e riparte con l'aereo ancora un aereo giocattolo perché costa di meno Marco Pannella mi telefonava spesso quando ero al giornale e poi a libero e sempre di domenica quando mi trovavo a Bergamo e accomodato sulla mia poltrona guardavo la partita Marco cominciava a parlare di tutto faceva veri e propri monologhi era quasi impossibile inserirsi nel discorso in quanto non si concedeva pause le chiamate duravano una buona mezz'ora che diventava un'eternità Marco mi raccontava le sue battaglie e i suoi propositi una volta gli chiesi a che diavolo servissero i suoi digiuni ritenevo che fossero inutili egli invece ci credeva davvero li considerava determinanti e andava avanti a Cappuccini un dì durante uno dei suoi scioperi stavolta della sete venne addirittura ricovirato in ospedale era messo male fu accontentato nelle sue richieste e riprese a nutrirsi partecipammo insieme alla presentazione del libro detenuti di Melania Rizzoli era presente anche l'allora ministro della giustizia Paola Severino affrontammo uno degli argomenti che a Marco stavano più a cuore quello relativo ai diritti delle persone che vengono private della libertà personale Pannella era molto amato dagli italiani sia di destra che di sinistra metteva d'accordo tutti e possedeva una generosità straordinaria se c'era una causa persa lui la cavalcava e questo aumentava la simpatia popolare nei suoi confronti sebbene non abbia mai avuto delle grandi soddisfazioni Marco non è mai stato ministro tuttavia se l'Italia si è ammodernata e ha avuto uno svecchiamento lo si deve proprio a Pannella il quale fece innanzitutto la campagna per il divorzio era moderno privo di pregiudizi io lo sostenni nella battaglia a favore dei reclusi pochi giorni prima di morire mi fece la solita telefonata a Torrentizia ricordando un paragone automobilistico di me diceva che ero come Indro Montanelli ma con un cilindro in meno di Marco apprezzavo anche il fatto che non parlasse male di Silvio Berlusconi nonostante allora farlo fosse una sorta di obbligo morale una moda imperante che ero